Destra! Ora sei morta. Hai detto destra? Ma hai colpito a sinistra? E tu ora sei una ragazzina morta. Sì, perché hai mentito. La mia lingua ha mentito. I miei occhi urlavano la verità. Tu non mi hai visto. Ti guardavo! Ti guardavo, ma tu... Guardare non vuol dire vedere, cara ragazzina morta. Ora, riuscire a vedere è il vero segreto dell'arte della spada. Arya Stark, vieni con noi. Tuo padre vuole vederti. Per quale ragione? Lord Eddard invia gli uomini di Lannister piuttosto che i suoi. Tanto per sapere. Maestro di danza, non ti immischiare. La questione non ti riguarda. Mio padre non manderebbe voi. Non mi obbligherete a venire contro la mia volontà. Prendetela. Siete uomini o serpenti, voi che minacciate una bambina indifesa. Levati dai piedi, io ometto. Io sono Sirio Forel. Forestiero bastardo. E tu dovresti rivolgerti a me con maggiore rispetto. Uccidete il bravo Siano. Prendete la ragazzina. Arya, per oggi la lezione di danza è finita. Corri da tuo padre. Maledetti idioti. Muoviti, Arya. Vieni con me. Scappa. Il primo spadacino di Braavos non fugge. Che cosa diciamo al dio della morte? Non oggi. Corri. 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 Grazie a tutti.